Ma Stelle, cosa dire dello sponsor? Buongiorno, Stelle, cosa dire dello sponsor Paramount Plus? Io Paramount Plus l'ho attivato dieci giorni fa. Guarda il destino, l'ho attivato dieci giorni fa perché c'era un serial che mi interessava, quello 1883, quello western, che è bellissimo, ma una roba pazzesca. Solo che però il catalogo è un pochettino scarno, anche il catalogo per i bambini è un pochettino scarno, stanno cominciando ora, hanno fatto questa piattaforma, anche loro, la Paramount, e per pubblicizzarsi sta pubblicizzando tutto, è solo marketing. Quindi secondo me sarà uno sponsor, è temporaneo, uno sponsor temporaneo perché la Paramount si è messa ora in questa giungla di queste piattaforme. Quindi secondo me sarà solo temporaneo, però ripeto, il catalogo è ancora scarno, è ancora scarno. Netflix resterà ancora superiore. Io li attivo tutti anche per i bimbi, li ho attivati tutti. Una volta attivo Disney, una volta quello. Perché 7 euro, 8 euro si possono spendere al mese, ma Netflix sta cominciando a rompere i coglioni, anche per quella storia che non si può più condividere l'abbonamento, devi pagare 5 euro in più. Cioè sta cominciando a diventare pesante, invece il migliore, dato che parliamo di queste cose, il migliore secondo me è sempre Amazon. Ha un bel cataloghino, 4 euro, 5 euro al mese, resta sempre Amazon Prime, video imbattibile a quel prezzo. Quindi, ricapitolando, Paramount Plus secondo me è solo per l'Inter, è solo uno. Uno sponsor temporaneo perché è una questione di marketing, hanno iniziato ora con la piattaforma e vogliono pubblicizzarsi al massimo dove pubblicizzarsi che meglio di una finale Champions, capito? Quindi è solo temporaneo. Ho letto che Tiago Motta ha rifiutato il Napoli, Tiago Motta ha rifiutato il Napoli, c'è un'offerta della Juve a Tiago Motta che non penso proprio. Spalletti è da Juve anche, sì. Mi ha deluso tantissimo da quel rosicamento mondiale che ho visto, mi ha deluso tantissimo, tantissimo. È da Juve, sì. È un pezzo di merda. È da Juve, vai, vai, vai. Spalletti fai proprio per la Juve. Vai, rosicone, vai. Ci rivediamo dopo, Stan.